C'è un'anima dentro Ucima. Viaggia attraverso la tecnologia e l'automazione di un settore di cui siamo orgogliosi leader, grazie a una ricerca che non si ferma mai. Vive attraverso le persone la protezione che le nostre tecnologie garantiscono alle grandi e piccole cose di tutti i giorni. Si esprime nell'unione di un'associazione dove potersi incontrare e confrontare fra pari per sostenere nuove idee e cause comuni. Grazie a tutti.